Quest'anno la Robur Basket riparte dal campionato di Serie C Gol, proprio come negli ultimi anni, ha già conquistato ottimi risultati negli ultimi anni, conquistando due finali, una vincendola, un paio di semifinali, come si è concluso esattamente l'anno scorso. Però c'è un punto di svolta, la svolta di quest'anno è il ritorno di un allenatore completamente saronnese, perché il nuovo coach sarà Claudio Grassi, detto Tato, lo conoscono tutti a Saronno, professore di educazione fisica, tantissimi anni di esperienza nel basket, è stato prima un giocatore della Robur, poi un allenatore alla Robur, ha creato il settore giovanile, adesso dopo qualche esperienza non tanto lontano, magari anche nelle stesse categorie, torna a casa, torna alla Robur Basket. A sua disposizione la società ha messo una squadra molto simile a quella degli anni scorsi, con la maggior parte dei segni riconfermati, ci sono un paio di volti nuovi, anche se uno, a dire il vero, non è proprio nuovissimo, visto che aveva già giocato a Saronno, si tratta del playmaker Marco Sant'Ambrogio. L'altro volto nuovo, questo veramente nuovo, mai visto con la maglia di Saronno, è Niccolò Gorla, un ala forte che prenderà il posto in quintetto che l'anno scorso era stato di Maiocco. Per il resto, le riconferme di Mariani, del capitano Matteo Leva, di Clementoni, di Politi, di Alessandro Gurrioli, da tantissimi anni con noi alla Robur, e dei tantissimi giovani, a partire dai classe 99, Paolo Tosi e 2000, Davide Tressa, a seguire i vari 2002 cresciuti nel nostro settore giovanile, e speriamo di vederli presto, con tanti minuti anche in prima squadra. Il campionato inizierà a fine settembre, prima partita, il 28 settembre, è un sabato in casa, al palazzetto, quello lì qua dietro, giocheremo contro Desio. È già una delle partite più importanti della stagione, perché quest'anno il girone ovest della Serie C Gol, quello dove giocano Saronno, dove giocherà anche Rovello, tanto per fare alcune squadre della zona, comprende alcune delle migliori formazioni viste negli ultimi anni, Desio ad esempio, ma ci sarà anche il derby con Legnano e molte altre partite da vedere. Noi però vi invitiamo, primo giorno, prima volta in cui venire al palazzetto, 28 settembre, per Saronno-Desio, prima di campionato di Serie C Gol.